Mi ha fatto particolarmente piacere apprendere che in giugno prossimo a Barcellona si inaugurerà un festival rossiniano, festival ideato, organizzato e diretto dal mio grande amico e collega Raúl Gimenez, tenore di fama mondiale con cui abbiamo condiviso nella nostra lunga carriera rossiniana tanti successi. Mentre mi congratulo vivamente per questa interessantissima manifestazione, auguro un grande successo, cosa sono sicuro non mancherà dato le brillantissime premesse. Buon lavoro e un caldo saluto a tutti!